E' inutri che girate attorno attorno. Sì, ma siamo noi, siamo noi qua sul luogo dell'agguato. Tranquillo, ci pensiamo noi. Sono arrivati in forza. Chiamali, oh. Dai, Vellucci. Colleghi. Vellucci. Vellucci. Che è successo? Vedete che in questo monastero abbiamo trovato un frate che ha commesso dei reati. Andate lì e prendete il cappuccino. Momento, io ho già preso il caffè. Io ho già fatto colazione. E' una bella loro vado io. Scusi, è io. E' fatto colazione? No. E' incimane. E' un'unico caffè.